Presidente Secchi, una partita persa sul campo del Monastir che è un po' sembrata la fotocopia di quella del Tonara. Torres che ha dovuto giocare in dieci tutto un secondo tempo, Torres che non finalizza e alla fine subisce magari tre tiri e due gol. Sì, non finalizza, è una gravissima carenza di questa squadra. Non riusciamo ad essere cattivi in avanti, abbiamo fatto il primo tempo dove abbiamo dimostrato forse di essere superiori tecnicamente al Monastir e abbiamo fallito completamente questa partita. Potevo chiudere un occhio sul Tonara perché insomma siamo rimasti in dieci ma anche qui abbiamo commesso delle ingenuità, non si può rimanere in dieci anche in questa partita. Qua non ci sono colpi di arbitri o di altre condizioni, siamo totalmente responsabili di questa disfatta. Io la chiamerei una disfatta, io sono molto molto deluso, ripeto molto deluso perché gli sforti enormi che sto facendo, che stiamo facendo, poi portano questi risultati. Quindi insomma mi farò un esame di coscienza da questo punto di vista. Presidente, naturalmente questa gara che arriva sotto Natale ci regala un Natale amaro, lo regala a noi, lo regala ai tifosi. Cosa possiamo dire per quello che verrà? È stato un anno 2017 che mi ha visto in prima persona tentare in tutte le maniere di dare una mano alla Torres, ossia quando ero in Serie D con la gestione Piraino dove ho tentato di prenderla per i capelli, un'estate molto tribolata dalla ricostituzione della società, tentativo di ripescaggio. Sapevo che l'eccellenza è un campionato molto impegnativo per la Torres e per il suo nome, però col nome non si può vincere, bisogna vincere con i fatti, con i giocatori, con il sacrificio. Qua alcune cose non stanno andando bene, quindi io ne dovrò prendere atto e cercheremo di lasciarci alle spalle questo 2017, anche se io non sono per niente scaramantico, è vedere il 2018 in maniera più positiva. L'unica cosa che posso dire è di ringraziare personalmente tutti i tifosi veri della Torres che ci hanno sempre sostenuto in quest'anno molto difficile. Che hanno anche criticato quando c'è stato il momento. Sì, giustamente, perché bisogna anche criticare quando le cose non vanno. Stiamo parlando di calcio, d'altronde avviene in tutta l'Italia, però hanno avuto fino adesso pazienza nell'aiutarla questa squadra e questa ricostituzione. Però veramente per i giocatori che abbiamo, per i sacrifici che ho profuso, vedermi questi risultati come quello di oggi veramente per me sono una grande delusione. E quindi diciamo che, anche se deluso, me ne prendo la responsabilità. Vedremo più avanti cosa succederà. Grazie Presidente. Grazie a voi.